Ci troviamo sul palcoscenico del Teatro Sociale di Trento, qua in mezzo alla nostra scenografia che rappresenta il cratere della strage di Capaci. L'idea del cratere ce l'ha data lo stesso Falcone che nel descrivere il suo rapporto con Tommaso Buscetta ci disse che con lui è come se ci fossimo avvicinati per la prima volta sull'orlo di un precipizzo, di un pozzo nero e ci avesse dato una chiave per entrarci e per guardare al suo interno, cioè per scoprire che cos'era veramente cosa nostra. Partendo da questo spunto abbiamo trasformato il tempo sospeso nel volo in quell'istante dell'esplosione in cui in bilico fra la vita e la morte Falcone si ritrova a vivere tutta la sua esistenza e da quell'istante dell'esplosione vedremo Falcone ripercorrere 27 frammenti della sua vicenda come dei frammenti di vita e insieme a lui li rivivremo anche noi nel pubblico.